amici bentornati sul canale 9000 giri elaborazione autosportive volevo riprendere un attimo un argomento diciamo uno degli aspetti che spesso leggo nei commenti riferito sempre al famoso filmato dove io ho preso una determinata posizione riguardo alla tecnologia dell'elettrico la famosa transizione ecologica sulla quale sono arrivato sostanzialmente ad avere una una netta posizione in contrasto con questa tecnologia per determinati motivi che io ho spiegato nel video e che poi ho ripreso anche in video successivi una delle diciamo delle accuse da parte di coloro che viceversa cioè un mondo che si divide in due parti coloro che sono stati convinti e che utilizzano diciamo di questi convinti ce ne sono il 90 per cento che hanno proprio oltre alla convinzione sono passati anche alla pratica e hanno comperato la macchina elettrica e lì proprio non c'è non c'è dialogo nel senso per loro la scelta che hanno fatto è quella più razionale salvo un paio di casi che hanno fatto una cappellata terrificante non ne voglio più sapere gli altri cercano di difendere a spada tratta questa loro scelta non peraltro li chiamo i tesla boys in maniera simpatica e sono per fortuna la minoranza la stragrande maggioranza viceversa la pensa come la penso io in maniera più o meno diversa a tal proposito abbiamo anche pubblicato una trasmissione molto interessante facendo un parallelismo con la trasmissione di report che è uscita sul rai 2 poco tempo fa dove praticamente ha esposto gli stessi argomenti cioè ha analizzato tutto quello che era la filiera dell'elettrico con tutte le conseguenze nelle implicazioni negative a livello umano a livello di sfruttamento della della manodopera e a livello di inquinamento una cosa veramente per dire io già eh determinate idee me le ero fatte e le ho esposte nel video in maniera pittoresca ma comunque le ho esposte nel video non mi sono documentato più di tanto ma mi sono accorto che non ho sbagliato poi più di tanto perché se una trasmissione come report che credo sia abbastanza credibile cioè io posso anche uscire come 9000 giri non è credibile perché e dopo spieghiamo quali sono le accuse che mi fanno ma che una trasmissione che va su una una rete nazionale in prime time e che per quello che sappiamo la trasmissione super partes non sia credibile quello proprio non direi che lo scarterei come ipotesi andate a vedervi la trasmissione che abbiamo fatto andate a vedere i parallelismi tra quello che ha detto report il conduttore di report è quello che abbiamo detto noi e vedete che sono perfettamente sovrappominibili anzi la trasmissione di report ha amplificato in maniera esponenziale quello che noi avevamo solamente accennato detto questo fatto questo inciso una delle cioè da parte di coloro che criticano questo mio modo di pensare diciamo che la critica che mi viene fatta è sostanzialmente il fatto che io lavoro in questo settore per cui ovviamente lavoro lo sapete nell'ambito delle delle elaborazioni per auto sportive di qualunque tipo di qualunque genere ovviamente le auto devono prevalentemente essere a motore termico cioè perché momento non c'è una tecnologia o degli strumenti che vadano a modificare una macchina ed è anche perché ce ne sono ancora talmente poche che nessuno si è messo si è preso ancora la briga di studiare il come modificare se non rari casi come modificare questo genere di vetture quindi una delle risposte che io do di sovente è il fatto di non preoccuparsi cioè non è che io sono preoccupato di chiudere domani mattina a prescindere fatto che ho 63 anni che fra non molti anni andrò in pensione quindi questo diciamo non ho una proiezione trentennale sulla quale basare la mia attività lavorativa i miei 40 passa anni di lavoro li ho fatti mi sono fatto un bel un bel mazzo in questi anni spero mi auguro di lavorare ancora alcuni anni e poi andare tranquillamente in pensione quindi non è il problema del oddio mi sfugge il lavoro sotto le mani il discorso è un po diverso cioè tutti quelli che hanno affrontato questo discorso che interpreta così questo discorso che per il momento è stato teorizzato dalla comunità europea e ho sentito recentemente anche ieri sera che adesso la comunità europea sta facendo un passo un passo indietro rispetto a quello che è stato detto precedentemente prendiamo per buono quello che c'è fino adesso dove dal 2035 smetteranno di quelle case automobilistiche smetteranno di produrre auto a motore termico ma questo non significa che smetteranno di produrre non è che tutte le macchine che sono in giro a motore termico si fermeranno il primo gennaio 2036 cioè questo che forse la gente che ha in mente unicamente l'elettrico non capisce a pieno cioè le macchine le decine di milioni o nel mondo le centinaia di milioni di macchine che circolano oggi continueranno a circolare anche dopo il 2035 cioè non c'è non è vietato che dal 2035 in avanti tutte le macchine a motore termico vengono bloccate vengono rottamate schiacciate ottenute in garage no continueranno a lavorare quindi già il lasso temporale dal 2023 al 2035 non è lunghissimo comunque si parla di una decina d'anni sono assolutamente convinto che la comunità europea modificare in maniera radicale molto radicale questa questo primo approccio perché si sono resi conto di quali errori hanno commesso nel stilare una 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 normativa più ideologica che non diciamo pratica in ogni caso ammesso e non concesso di arrivare al 2035 senza particolari modifiche di questa di questa norma le macchine continueranno a circolare ancora per decine di anni quindi se le macchine circoleranno ci saranno sempre meccanici fornitori di ricambi preparatori il mercato non cambierà il mercato non cambierà io devo dirlo onestamente quando era voluto fuori il discorso di elettrico già anni fa o a milano le restrizioni che il nostro ben amato sindaco sta cercando di fare per limitare il più possibile secondo la la sua ideologia bacata la circolazione delle macchine all'inizio effettivamente ci avevo fatto un pensiero mi ero preoccupato sull'argomento poi nella pratica non è cambiato assolutamente niente cioè il mio lavoro addirittura è incrementato cioè quindi è una preoccupazione che non ha attinenza con la realtà quindi gli appassionati di macchine di quello che dice il sindaco sala qui quattro semideficienti che ci sono a bruxelles non gliene frega niente vanno avanti con la loro testa non si fanno infinocchiare da questa gente qua e quindi se ci sono se continueranno così come è stato in questi anni negli ultimi due tre anni ho avuto un incremento di fatturato un incremento di clienti un incremento di lavoro che non mi sarei aspettato ne sono contento quindi non vedo un attinenza tra la mia il mio punto di vista che deve difendere o nascondere una preoccupazione legata legata al mio lavoro no io sono contrario le macchine elettriche per una questione proprio di principio perché per me le macchine elettriche non non possono stare in piedi è una tecnologia che non può sovvertire o soppiantare non sovvertire soppiantare in maniera integrale quello che è la realtà di oggi tutto quello che si muove lo tra lo lo trasformo il mio elettrico ecco il motivo per il quale io ho fatto questa trasmissione per fortuna non sono da solo la diciamo la stragrande maggioranza di quelli che ci hanno commentato la pensano esattamente come me ma la cosa che mi ha fatto mi ha stupito veramente avere una come dire una riprova da parte di una trasmissione molto importante che addirittura ha aumentato il carico su quello che abbiamo detto noi quindi direi che da questo punto di vista tutti i come dire i sostenitori tutti tesla boys si mettono cuore in pace poi rispetto loro rispetto le loro opinioni per l'amor di dio viviamo in italia è uno degli aspetti fondamentali di questo paese è il diritto di opinione quindi io posso pensarla così e rispetto l'opinione degli altri ma voglio che gli altri rispettino la mia questo è pacifico solo così si convive in maniera civile se uno deve prevaricare l'altro perché ha comprato la macchina elettrica dandogli del dell'incompetente o del non attidente alla realtà quotidiana secondo me si deve mettere il cuore in pace io ripeto accetto il fatto che loro abbiano le loro opinioni io le mie e vedremo poi alla fine non è questione di battaglia non è questione di chi vince chi perde è una questione io sono preoccupato che non vengano spesi o non venga presa questa strada senso unico e se poi dovremmo mai tornare dietro e non è la prima volta che succede perché in italia quante volte si è diciamo intraprese una strada poi cambia il governo quelli che vengono dopo e si sono accorti che quelli precedenti hanno sbagliato disfa tutto chi è che paga il fai e disfa sempre noi sempre noi con le nostre tasse quindi onestamente io sono convintissimo che nel 2035 ripercorrendo indietro 12 anni prima le cose saranno cambiate ma totalmente totalmente perché già adesso ci sono tanti segnali già adesso appunto la comunità europea per fortuna una svegliata sia data io spero che con le prossime elezioni a bruxelles cambia ancora il vento e a milano spero che veramente col prossimo sindaco cambi una mentalità che sta veramente distruggendo una città che non non si merita un un atteggiamento di questo genere direi che anche per questo sfogo personale tutto vi invitiamo sempre come al solito cliccare sulla campanella e soprattutto iscrivervi al canale così sentirete queste mie ogni tanto queste mie esternazioni alla cossiga che possono essere divertenti oppure sentite magari altre trasmissioni sempre mie dove magari parlo di cose un pochino più serie facciamo un po di varietà così almeno non animiamo nessuno per il resto è tutto alla prossima grazie a tutti